lucia oggi intendo parlare al tuo cuore salvatore oggi voglio parlare al vostro cuore perché noi oggi stiamo vivendo un grande miracolo due storie che si fondono e diventano un unico fiume da oggi in poi lucia la luce dei tuoi occhi si chiama salvatore e ha cambiato il modo di esprimere la tua vita nel cuore di salvatore dentro il suo cuore in questo momento c'è la volontà ferma sicura e determinata di dare la vita per lucia perché di lucia è olemente innamorato spero che ci siamo detti tante cose il resto ve lo dirà la vita spero che ci siamo detti tante cose il nostro cuore innamorato